E' scritto che la correzione è in accordo a colui che osserva la Torah. Cosa vuol dire osservare la Torah? Implementare la Torah. Bene, quello che è scritto nella Torah non puoi capirlo per adesso. Lo capirai nel grado in cui tu agisci in questo. La Torah è occulta, è un codice. Quello che tu hai bisogno e quello che i cabalisti dicono è che devi fare pratica per poter scoprire la Torah. La Torah è la luce superiore che viene al nostro desiderio di ricevere e quindi viene dall'alto la forza superiore che ti dà la capacità di invertire il tuo desiderio di ricevere nell'opposizione, ossia nell'intenzione di dare. Questo è quello che è scritto nel libro e più avanti lo scoprirai nel grado in cui tu usi tutti questi consigli in maniera corretta.